Salve, mi chiamo Ida Capozzo, sono un'insegnante e ho due figlie, le quali frequentano entrambi il British da cinque anni. Oltre loro due anche i cuginetti frequentano e a dir la verità ci troviamo molto molto bene sia dal punto di vista del rendimento scolastico sia proprio per la conoscenza dell'inglese personale in quanto tutti quanti hanno una grandissima dimistichezza, sono molto sciolti, riescono a tradurre una canzone ascoltandola soltanto una volta quindi hanno avuto una ricaduta positiva che poi diciamo che era il nostro obiettivo quello di far arrivare ad avere una conoscenza della lingua inglese pari a quella dell'italiano, una sorta di bambini bilingue se così si può dire. Quindi i primi anni eravamo un po' diciamo titubanti rispetto a un proseguimento del tempo scuola standardizzato però poi nel tempo abbiamo avuto una risposta positiva da parte dei ragazzi, apprendevano divertendosi e quindi per loro ormai è naturale dopo scuola venire qui e trascorrere due ore al pomeriggio imparando l'inglese. Grazie per la visione!